Bisognerà attendere le motivazioni impreviste per fine settimana, ma rischiano di sgretolarsi le accuse della DDA nei confronti degli indagati sulla presunta compravendita di un bambino romeno di 8 anni che in cambio di 30.000 euro sarebbe dovuto passare, aggirando i normali criteri di adozione, ad una coppia di sfaranda a Castellumberto, a smontare l'accusa del Tribunale del Riesame che ha concesso i domiciliari a Franco Galatirando di Tortorici, difeso dall'avvocato Decimo Lopresti. Galatirando dovrà indossare il braccialetto elettronico. Domiciliari anche per Vito Caliano di Fasano, mentre il giudice ha deciso l'annullamento dell'ordinanza a carico del fratello del bambino che quindi torna in piena libertà. Nel provvedimento del Riesame di Messina però fa notizia la nuova formulazione del reato contestata originariamente, la riduzione in schiavitù. Adesso, infatti, il Tribunale parla di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità. In pratica si passa da un'accusa gravissima ad un reato molto più blando che mina le fondamenta dell'inchiesta. Su queste basi, infatti, presto partiranno anche gli altri ricorsi al Riesame di tutti gli indagati che attualmente si trovano in carcere. Per quanto riguarda invece la tranche in cui è competente la procura di patti, titolare del sostituto Francesca Bonazinga, il Tribunale del Riesame si riunirà il 26 marzo per esaminare i ricorsi presentati dall'avvocato Carmelo Scillia per Aldo Galatirando di Tortorici, Alessandro Pulidiciarello per conto di Vincenzo Nibali di Castellumberto e della coppia di coniugi di Sfaranda coinvolti nella vicenda.